Tutto bene signor Sindaco, buongiorno, buongiorno, come stai? Saluto al Sindaco, Presidente, vi dia un saluto. La Fiera del Levante è nostra perché ci somiglia, è intraprendente, come noi barefi. Quella di lavorare sudo, qui nel palazzo, non potete cavarvela con un posto. Non possiamo avere 1.400 migranti in una caserma. Sappiamo che il lavoro di questi ultimi anni ha quasi interamente recuperato il numero di posti di lavoro che erano stati perduti tra il 2008 e il 2013, cioè negli anni durissimi della crisi. Un milione e 90 mila posti di lavoro persi in quegli anni della crisi, oltre 900 mila posti di lavoro recuperati negli ultimi tre anni. Di difendere il paese, di difendere la salute, della crisi fortissima nel mezzogiorno. Non sentiremo così ai pugliesi che lo desiderano, di demolire i nuovi mobili troppo vecchi o troppo brutti, ottenendo in cambio il restauro del paesaggio o del disegno urbano. Uno scriteriale di utilizzo, ma anche solo per pochi secondi, sta chiamato ad adempere a tutte le fasi che vanno dalla predisposizione della progettazione tecnica.